Il cambio di passo è stato soprattutto mentale. Ne è convinto Juan Manuel Cichello dopo aver riletto i numeri del successo di Molfetta sul città di Castello e averli paragonati a quelli della sconfitta di Macerata. Le differenze nella Serie 1 di pallavolo si possono colmare solo con una concentrazione al top e così nel corso della settimana, più che la tecnica, quella non si discute, il lavoro svolto da Cichello e dai suoi collaboratori ha riguardato l'aspetto psicologico. Partendo da una certezza, nessuno deve sentirsi titolare inamovibile nell'ex privia Molfetta ma tutti devono essere pronti ad entrare nel clima partita in qualsiasi momento. Così nel preparare la trasferta di Trento contro una squadra che solo per il palmares che mette in campo farebbe tremare i polsi, Cichello ha mischiato le carte e potrebbe farlo anche in occasione della gara di domenica sera. Le cosiddette seconde linee sono state tenute sulla corda in questi giorni di allenamento e anche il libero ha concentrato i suoi allenamenti sulla ricezione, fondamentale che contro Città di Castello ha funzionato al meglio. Così come il retto, il muro Molfettese nella sfida vinta contro gli Umbri, anche se il punto nodale è stata la concentrazione. Sin dal primo pallone giocato, Molfetta ha dimostrato di avere la giusta voglia per conquistare la vittoria e i primi punti del campionato. Bisognerà tenere la sticella alta nell'approccio alla gara anche contro Trento per colmare le distanze che non sempre sono tecniche nella Serie 1 di pallavolo.